Si faranno dall'8 al 10 gennaio i tamponi di massa nella città di Fano con la possibilità di allungare lo screening anche a lunedì 11. Le date sono state annunciate questa mattina dopo un confronto e un sopralluogo al Codma di Rosciano del vicepresidente della Regione Marche, Mirko Carloni, ai dei vertici dell'Azur, Area Vasta 1. Oggi è stata l'occasione per visionare le strutture nelle quali eseguire i test antigenici rapidi tra l'ipotesi, il palazzetto dello sport e l'area formativa della protezione civile. Perché abbiamo scelto dall'8 in poi? Perché come ben sapete la provincia di Pesaro ha subito questo tsunami da parte del Covid, quindi abbiamo gli operatori che sono stremati nel portare avanti tutti gli impegni che vanno dalla copertura dei turni allo screening vero e proprio. Considerate che ogni giorno sono impegnate circa 100 persone nell'effettuazione di questo screening. Noi partiremo con Fano, ma insieme a Fano partiremo anche con altri comuni o aggregazioni di comuni. 27 vaccineremo le prime 15 persone a Urbino, scelte direttamente dalla Regione, dall'Azur, e poi in base a questo, come sapete, il vaccino ha un richiamo dopo 21 giorni. Quindi probabilmente entro metà gennaio arriveranno i vaccini che permetteranno di cominciare a fare a livello proprio di massa la vaccinazione. Lunedì mattina intanto si svolgerà una videoconferenza con tutti i dirigenti che hanno partecipato allo screening e poi martedì mattina si terrà la conferenza dei sindaci convocata da Magnoni. Durante il confronto verranno stabiliti i luoghi definitivi per eseguire lo screening. Su Fano potremmo riprodurre, direi in maniera fedele, il modello di Pesaro, identificando due o al massimo tre siti ai quali fa rafferire la popolazione che si vuole sottoporre allo screening. Con lo stesso modello ritengo che noi si possa pensare ad aggregare comuni più piccoli in modo da ottenere macro aggregati comunali di 50-60 mila abitanti e regolarci su questi dati, con questi criteri, sul numero di postazioni e di siti da organizzare e sulle persone da utilizzare. L'adesione nei comuni di Pesaro e Urbino, fa sapere Carlotti, è stata a turno al 20%, con 17.130 persone che si sono sottoposte al test. Di queste 133 sono risultate positive e quindi lo 0,8%. Si tratta di soggetti asintomatici ma pur sempre contagiosi. Vorrei fare un appello, è fondamentale questo screening. Noi siamo stati l'unica regione, grazie all'assessore alla sanità Saltamartini, ad aver fatto partire come Regione Marche uno screening di massa per tutta la popolazione. Sono stati già rilevati centinaia di persone positive, completamente asintomatiche, con un'altissima carica virale. Quindi potenzialmente che potevano contagiare durante le festività i loro parenti, i loro amici, i loro affetti. Quindi questo lavoro che si è fatto in questa nostra provincia è una vera opera di prevenzione. Fate lo screening e fate in modo che i vostri amici, i vostri affetti lo facciano anche loro per verificare se se, anche stando bene in modo asintomatico, si è contratto il virus in modo da illimitare i danni di questa epidemia.